Allora, stasera parliamo di un gigante, ma tendo a parlare dei giganti, anche parliamo dei nani, no? In tempi di nani che proiettano ombre da giganti, cerchiamo di parlare dei giganti veri. Abbiamo parlato di Jamie Joyce, abbiamo parlato di Gadda, abbiamo parlato di Tolstoi. Stasera parliamo del peso massimo, uno dei pesi massimi. Allora, nel Pugilato, a me tanto caro, ci sono Mohamed Ali, Lennox Lewis e Mike Tyson. Chi sono i tre pesi massimi del Novecento? I tre enormi, cioè quelli che hanno dato un pugno in faccia all'umanità in nome della letteratura. Sono tre. Marcel Proust, Franz Kafka e James Joyce. Di James Joyce ne abbiamo già parlato. Di Marcel Proust ne parleremo. Di Franz Kafka ne parliamo stasera. Però Kafka è quello più anomalo di tutti. È l'anomalia fatta a persona. L'uomo che è diventato un aggettivo. Kafchiano. Quante volte vi capita nella vita di dire che situazione kafchiana? Cosa significa? Perché non diciamo che situazione surreale? Che situazione strana? Che situazione ambigua? Perché diciamo che situazione kafchiana? Perché l'aggettivo kafchiano è come se facessimo un frullato dei tre aggettivi che ho detto prima. Surreale, incredibile, anomala, strana. Vedete insieme tutto ciò che è fuori dai binari e diventa kafchiano. Kafka è l'autore del Novecento che più di tutti svolta, assecondando il suo secolo. Nasce nell'Ottocento, nasce nel 1883 e muore nel 1924. Muore a 41 anni, tubercolosi, muore molto giovane. È un omino gracilissimo, avete visto la foto, no? È un omino gracilissimo, delicatissimo. E cosa succede nel Novecento, il cosiddetto secolo breve? Cosa accade? Accade una cosa molto semplice. Che l'Ottocento è il secolo del romanzo, è il secolo della rivoluzione industriale, è il secolo in cui l'uomo si emancipa rispetto a tutto e tutti, ma arriva al Novecento. E come dico spesso, come ho detto con Joyce, come potrei dire con Proust, come potrei dire con chiunque, il massimo filosofo del Novecento è Sigmund Freud, che porta l'inconscio, cioè l'introspezione. L'abbiamo detto tante volte. Cosa succede al romanzo? Il romanzo dell'Ottocento, pensiamo a Flaubert, o a tanti romanzieri dell'Ottocento, era la narrazione del reale, ciò che accadeva. Quello che accadeva veniva narrato esteriormente. Noi potevamo avere l'impressione del singolo soggetto, però la narrazione era del divenire degli eventi che capitavano durante la narrazione del romanzo, durante la vicenda. Con il Novecento, dal realismo ottocentesco, Flaubert, si passa al modernismo del Novecento. E che cos'è questa modernità letteraria? Non è nient'altro che spostare l'obiettivo dal reale, dagli accadimenti, all'io narrante. Cioè l'attenzione si sposta dalle vicende che accadono alle vicende interiori del soggetto che le racconta. È passato Sigmund Freud. È passato Nietzsche. Nietzsche ci dice, come dice la zucchero, che Dio muore. Non possiamo più rapportarci al mondo come ci rapportavamo prima, con la forza di Dio. Per Nietzsche Dio muore. E per Sigmund Freud Dio diventiamo noi, la nostra introspezione, il nostro inconscio, la nostra scatola nera. E allora, Marcel Proust, raccontando quel demi-mond francese proustiano, fatto di umanità corrotta e corruttibile, ci racconta attraverso le vicende l'io di ciascuno dei tantissimi soggetti che abitano la recherche. James Joyce, l'abbiamo detto l'altra volta, ci racconta una giornata di un singolo uomo, Leopold Bloom, in 16 ore, che diventa qualcosa di epico. Cioè la narrazione di una giornata qualunque può diventare epica. Con Joyce, che porta tutto alle estreme conseguenze, raccontandoci il soliloquio di Molly Bloom, Streams of Consciousness, abbiamo detto, il flusso della coscienza. Non parlo più io, tu, parla la mia coscienza. Bene, in mezzo a questi due colossi, in mezzo a Lennox Lewis e a Muhammad Ali, c'è Mike Tyson, che è il contrario di Franz Kafka, perché era robusto, Franz Kafka era esilissimo, fragilissimo. Ma Kafka più di tutti entra in quell'io narrante, soltanto che, a differenza degli altri due, entra nel l'io narrante e scompagina totalmente le carte. Cioè le vicende dell'io raccontato da Franz Kafka sono vicende che non si possono raccapezzare la realtà, ma più di tutte raccontano la solitudine dell'uomo che capisce che nel Novecento è solo con la propria coscienza. Coscienza che non conosce. È da solo con questa sconosciuta che lo abita dentro. E Franz Kafka centra perfettamente questa vicenda. Dovete sapere che Kafka in vita non ha pubblicato mai niente. Pensate. Sì, a parte qualche racconto, a parte la metamorfosi e ad altri racconti importanti pubblicati su riviste, non ha goduto del suo successo. Un po' come Van Gogh, che è morto pensando di essere un pittore della Domenica. Così Franz Kafka muore senza aver pubblicato i suoi romanzi importanti, che sono il processo, che sono il castello, che sono America. Non li ha pubblicati mai nessuno. Tant'è che i suoi manoscritti, ancora incompleti, sono quasi tutti degli incompiuti, i suoi manoscritti vengono consegnati quando lui comincia a stare male, e ha 40 anni, quando comincia a stare male, anzi prima di 40 anni, comincia a stare male. Questa tubercolosi lo attanaglia ai polmoni. Ed è gracilissimo, è fragilissimo. Ha capito che è a fine corsa. Siamo nel 1922-23. È un ebreo, Franz Kafka, concepisce la condizione di difficoltà che gli ebrei affronteranno da qui a qualche anno, ma ancora non la vede. Muore nel 1924 e lascia tutti gli suoi iscritti a un suo amico, Max Brod. Max Brod gli vengono consegnati gli iscritti e Kafka gli fa una richiesta. Io te li consegno, ma tu devi bruciarli tutti. Ossia, non è mai stato pubblicato e non voleva che venissero pubblicati. Però uno si chiede, ma se tu davvero non vuoi che i tuoi manoscritti vengano pubblicati e vuoi che vengano dati a rogo, vengano bruciati in un cammino, fallo tu. Perché non l'ha fatto lui? Perché Kafka non brucia i suoi manoscritti, relegandoli per sempre all'oblio? Perché li lascia a Max Brod? Perché forse intuisce, nella sua reticenza assoluta, che Max Brod non li brucerà. E infatti non li ha bruciati. Sto bevendo un goccino di malvasia, però, in una coppa degli anni 30. Non è importantissimo ciò che bevete, ma è importantissimo il bicchiere nel quale lo bevete. Guardate la coppa degli anni 30. L'ho fatto in onore di Franz Kafka. Questa coppa più o meno è stata fatta quando lui stava morendo. Allora, abbiamo raccontato questa vicenda. Lui è un uomo che non lascia traccia di sé. Perché tutto ciò che scrive lo legge ai suoi amici. E tutto ciò che verrà pubblicato, che lo farà diventare uno dei più grandi scrittori del Novecento, lui non lo saprà. Ne godrà indirettamente, ne godrà da morto. Il suo nome rimane eterno. Il suo nome è propedeutico a tantissima narrativa del Novecento e dei nostri tempi. Non solo letteraria, ma anche cinematografica. Quanto Kafka c'è nel cinema mondiale. Tantissimo e poi capiremo perché. Allora, Max Brod cosa fa? Si trova questi manoscritti. Diversi. Si trova il castello. Si trova il processo. Si trova alcuni racconti scritti, come la metamorfosi. E decide, con un escamotage, lui era uno scrittore di poco conto, decide di scrivere un romanzetto nel quale racconta la vicenda di un protagonista che poi è Franz Kafka. E lo fa diventare quello che poi sarà Franz Kafka nell'immaginario collettivo. ossia un uomo, come dire, edulcorato, un uomo assessuato, un uomo metafisico quasi, quasi impercettibile. La sua magrezza fisica era la sua magrezza esistenziale. Lo fa diventare un santino, una specie di santino, un omino che stava nel mondo con delicatezza come una libellula. Tant'è che non solo gli consegna i romanzi a Max Brod, Franz Kafka, ma gli consegna anche i diari. E nei diari c'è scritto quello che lui invece fa. È vero che lui voleva stare lontano dall'umanità. È un uomo che ha avuto difficoltà enormi con le donne. Perché lui voleva essere letteratura e solo quello. Lui lo ha sempre detto. Io voglio essere letteratura e nient'altro. Quindi ha avuto rapporti sentimentali difficilissimi, naufragati molto presto. Soprattutto ha avuto rapporti con prostitute. Perché aveva una sorta di compulsione sessuale. E quindi all'epoca, alla fine dell'inizio del Novecento, si andava nei bordelli. E pensate che Max Brod ha cancellato dai diari tutte le parti in cui lui raccontava di andare a puttane. Perché? Perché voleva raccontare questa figura che è morta, che non c'è più, che non può più parlare, edulcorata, delicata. E voleva che passasse la forza metafisica di questa figura. Ma non è così. In realtà non era una figura così idilliaca, così cristallizzata. Era semplicemente un grande scrittore. Forse uno dei più grandi che sia mai nati. Che siano mai nati. Però tutto, tutto il racconto parte. Perché, attenzione, che lo dicevo prima, Kafka, a differenza di tanti altri scrittori, a differenza di Proust, a differenza di Joyce, Proust ha scritto delle cose anche non importanti, così come Joyce, Esuli, non è un'opera così importante. Tutto ciò che ha scritto Kafka è stato fondamentale. Cioè, ogni cosa che ha scritto, anche la lista della spesa, era scritta con la dovizia dei particolari del gigante, del grande scrittore. Non ha mai toppato una scrittura. E in questo frangente, cioè, di non sbagliare mai, di essere sempre perfetto, di essere sempre grande, ha scritto molte lettere. Le scriveva alle donne che ha avuto, agli amici. Ed erano lettere private, naturalmente, che non hanno avuto la risonanza della pubblicazione. Però ne ha scritta una pubblica, volutamente pubblica, a suo padre. E il rapporto con suo padre, ve lo racconto all'inizio, perché spiega tutta la sua narrazione, tutta la sua vita, tutto il suo scrivere letteratura, il suo dare alle lettere mondiali. La lettera al padre venne scritta senza mai essere spedita al padre. Dovete sapere che, mentre Franz Kafka era un omino esile, delicatissimo, con la tubercolosi, stava sempre male, stava sempre chiuso in casa, le donne, qualche puttana, ma niente di più, suo padre era al contrario, un uomo fortissimo, era un Kafka, come diceva lui, un uomo enorme, che lo ha sempre biasimato, cioè il padre biasimava il figlio, non tanto perché non avesse fatto le cose che doveva fare. Innanzitutto, Kafka, padre, voleva che il figlio si adoperasse, come si è adoperato, nelle assicurazioni, nel lavoro pratico, e non voleva che si avvicinasse alla letteratura. Quando Kafka decide che il suo destino è la letteratura, e lo dice ai genitori, loro biasimano molto. Quindi aveva questo rapporto con il padre, sentiva di avere deluso il padre, e il padre rimarcava quanto fosse deluso da lui. Quindi un senso di colpa e un senso di vergogna che si estenderà a tutti i suoi romanzi. Lettera al padre, lettera al padre, è la prima che vi cito perché ci dice già tutto. Sentite come inizia. Vi ricordo che questa lettera non è mai stata spedita al papà, però era una lettera pubblica, cioè tutti l'hanno letta tranne il padre. Quindi lui voleva che, attraverso l'esternazione di fatti privati relegati alla famiglia, si capisse l'essenza del suo essere. Caro papà, recentemente ti è capitato di chiedermi perché affermo che avrei paura di te. Come al solito non ho saputo risponderti. In parte appunto per la paura che tu mi incuti, in parte perché a motivare questa paura richiederebbe troppi particolari. Più di quanti riuscirei a riunirmi in qualche modo in un discorso. Se ora sento di risponderti per lettera, anche questa sarà una risposta molto incompleta. Perché anche quando scrivo mi bloccano la paura di te e le sue conseguenze e perché la vastità del tema oltrepassa di gran lunga la mia memoria e la mia intelligenza. Papà, le difficoltà tramite te sono troppo grosse. Non c'è scritto che le possa testimoniare. Ci posso provare in questo, ma non so se ci riuscirò. Tradotto. Risumendo, il tuo giudizio su di me se ne ricava che tu non mi rinfacci atteggiamenti poco dignitosi o malvagi, ma freddezza, estranetà e ingratitudine. Cioè il padre muoveva a Franz il fatto di essere ingrato, di essere freddo, di non assecondare le volontà del padre. E poi c'è questo passaggio che è il nodo di tutta la lettera al padre, che dice Io sono quello che sono, tu invece sei un vero Kafka. In quanto forza, salute, appetito, potenza di voce, capacità oratoria, autosufficienza, senso di superiorità, tenacia, presenza di spirito, conoscenza degli uomini e per una certa generosità. Naturalmente con tutti i difetti e le debolezze tipici di questi pregi, verso i quali ti sospingono il tuo carattere e a volte la tua irrascibilità. Caro papà, tu sei il contrario di me. Sei fortissimo. Mangi come un bue, domini la tavola, hai un'eloquenza straordinaria. Io sono un criceto, un piccolo scricciolo, incapace di tutto. Io amo solo la letteratura e tu non vuoi che io ami la letteratura. Qui si racchiude tutto il nodo di questa esistenza, nel rapporto col padre e con la famiglia in genere. Tant'è che poi lo rivedremo nel processo e lo rivediamo, soprattutto nella metamorfosi. Allora, partiamo da un presupposto, e l'ho già accennato un'altra volta, e che questo, guardate, è fondamentale per capire Kafka. Se Kafka lo si considera, semplicemente, in ogni suo romanzo, un dramma, non si è capito niente. Kafka non è dramma. Kafka è dramma e commedia che si mettono insieme. Non si può prescindere da questo punto, perché se noi considerassimo, come hanno fatto alcuni registi che hanno messo in scena, hanno fatto film sui libri di Kafka, che hanno preso solo la parte, diciamo, dura, la parte drammatica, la parte eloquente, ma non sottesa, dovete sapere che vengono raccontati in modo totalmente moralistico. Quindi il romanzo di Kafka, se viene preso a compartimenti stagni, come a scuola, lo dicevo l'altra volta, come al liceo, quando si legge la metamorfosi di Kafka, nei licei in cui è capitato, dove si legge il processo, i ragazzi si mettono a ridere, così come si rimettevano a ridere i suoi amici di Franz Kafka, quando lui leggeva un passaggio, ridevano subito, perché è una forza comica straordinaria, e dov'è l'eccezionalità di questo scrittore? È nel fatto che il dramma assoluto della metamorfosi, un uomo che diventa insetto, nel processo un uomo che viene condannato senza sapere il perché, viene ucciso. Perché è così grande? Perché c'è la farsa in mezzo, c'è la commedia, la commedia e il dramma si mescolano uno nell'altra e diventa questa letteratura meravigliosa e incredibile, kafkiana, dove non ti raccapezzi, dove non trovi la strada. La grande letteratura non ti riporta sul divano di casa, quando uno legge un romanzo di quelli che sono primi in classifica, fatti da un DJ o da una cuoca, vendolo molto perché le persone dicono ma anche a me capita così. Ti riportano sul divano di casa, ma la grande letteratura non deve portarti sul divano di casa così come la grande arte, devono essere il grimaldello, il passepartout verso un mondo nuovo che non conosci, che magari ti impaurisce un po', ma che ti fa crescere. Kafka diceva che la letteratura deve essere un pugno nello stomaco, io ti incontro, ti arriva un pugno nello stomaco, quella è la letteratura, se ti arriva una carezza non è letteratura. E quindi cosa accade in questi romanzi, in questi racconti che scrive? Accadono delle cose abbastanza incredibili. Allora, partiamo dalla Metamorfosi, il racconto che lui ha visto comunque pubblicato su una rivista e che è forse il suo racconto più famoso e quando diciamo kafkiano pensiamo subito a Gregor Samsa, il protagonista della Metamorfosi. Una bella mattina, Gregor Samsa fa l'agente di commercio, insomma qualcosa del genere, adesso non ricordo l'assicuratore, insomma qualcosa del genere, e succede che una mattina si sveglia e non è più un uomo, ma è un orribile insetto. Perché lui svegliandosi non vede più il suo corpo e lo vede tramutato in un insetto. L'abbiamo già detto, Kafka non dirà mai in quale insetto è stato tramutato, tant'è che Nabokov, che era un grande studioso degli insetti, disse che era impossibile capire, non era uno scarafaggio, non era un coleottero. Nabokov addirittura osò dire ma avrà avuto le ali. Perché se con questo dorso bombato potrebbe aver avuto le ali, ma con le ali sarebbe scappato dalla finestra. Insomma, l'insetto che è Gregor Samsa, noi non lo sappiamo. Sta di fatto che questo la mattina si alza e diventa un grande insetto. La cosa che mette insieme il dramma, che mette insieme la commedia, e che mette insieme il senso di colpa, che Franz Kafka aveva maturato col padre, è il senso di vergogna. Lo si vede in questo racconto. L'insetto capisce che qualcosa non va e soprattutto si sveglia col dorso all'ingiù. Quindi immaginatevi l'insetto che non riesce a muoversi, perché sul letto era di schiena, tramutandosi l'insetto non riesce a muoversi. Alla porta bussano i genitori, dai quali dipendeva la sussistenza della famiglia, perché Gregor Samsa era l'unico che portava a casa i soldi, papà, mamma e sorella bussano la porta, ma lui non apre, la porta è chiusa. Arriva anche il dottore di lavoro e bussa perché dice è in ritardo, dove è andato? E lui non sa cosa fare. Ma la prima cosa alla quale lui pensa non è ma porca puttana non sono più un uomo, sono diventato un insetto. La prima cosa alla quale lui pensa è sono in ritardo al lavoro. Cosa dirò ai miei genitori e cosa dirò al mio dottore di lavoro? Il senso di colpa, il senso di vergogna che abita Franz Kafka nella sua adolescenza e che abita i suoi racconti. Poi la vicenda naturalmente va avanti, c'è un pezzo esilarante dove non si può ridere perché lui, preoccupatissimo di rimanere sulla schiena come gli insetti, così no? Ad un tratto riesce a girarsi e a prendere la posizione normale ed è felice. Cioè pensate, uno si alza la mattina, è diventato un insetto, non è che è allucinato, è stordito, no, non apre i genitori, appena riesce a girarsi è già un po' felice, dice sto meglio, come relativizza tutto. E là continuano a bussare, la vicenda va avanti, ad un tratto aprono questa benedetta porta e i genitori, vedendo il figlio che non è più figlio, cosa fanno? Lo abbracciano, gli vanno incontro, svengono, sono disperati, sì la madre sviene ma il padre cosa fa? Gli tira degli oggetti, è terrorizzato, terrorizzato soprattutto da quello che diranno i vicini di casa. Ecco il pensiero della famiglia Kafka, cosa diranno i vicini di casa? La vergogna, il senso di colpa di avere un figlio che è diventato un coleottero, uno scarafaggio, quello che è. Pensate al dramma individuale di questo ragazzo che nonostante tutto cerca di vedere risvolti buoni. Ad un tratto comincia ad arrampicarsi per la parete, sul soffitto, la sorella gli passa da mangiare, vede che lui non mangia e allora gli passa del cibo putrefatto finché lui lo possa mangiare perché capisce che è un insetto che può mangiare così. Insomma un dramma assoluto, i genitori non hanno più introiti e lui non può più guadagnare perché è diventato un insetto, quindi cercano di affittare le stanze della casa come affittacamere ma questi che arrivano vedono l'insetto dentro la porta e quindi se ne vanno. insomma come non è alla fine il povero Gregor decide di lasciarsi morire senza più mangiare convinto che la sua morte libererà la famiglia e la farà tornare felice e così è. E così è. Capite? C'è un libro che fa piangere, è commovente però allo stesso tempo è farsesco, allo stesso tempo ti va in voglia di ridere, di parteggiare per lui, di dare un calcio nel sedere a suo padre che gli tira ad un tratto si sta muovendo gli tira una mela il padre tira una mela al figlio e la mela si conficca nel dorso bombato e gli fa male lui si ferisce e comincia a star male è una dramma assoluto la metamorfosi e però si ride tantissimo capite il genio di Kafka riesce a raccontarci l'introspezione l'inconscio l'io interno attraverso la commedia ci fa ridere e ci fa piangere perché il finale quando il coleottero nonostante la sorellina gli voglia tanto bene nonostante sia rimasto diventato coleottero gli passa il cibo putrefatto per farlo star bene ma lui non mangia più li vuole liberare e li libera e alla fine questa famiglia quando lui morirà si sbarazzano del corpo come se fosse un orpello inutile e pensate tornano a essere felici senza di lui cioè insomma voglio dire è il dramma nel dramma ma Kafka è riuscito a farci ridere in questo dramma assoluto siamo Mohammed da lì no? leggete sentite l'inizio ve ne leggo due diverse traduzioni Andrina Lavaggetto questo per Feltrinelli e poi questo per l'economica Feltrinelli la prima molto antica vedete che c'è Cafchino in copertina che questa è stata tradotta da Giorgio Zampa che è stato molto fedele a Kafka che aveva un'unica ossessione essere preciso nelle parole io non vi dico qual è la migliore vi leggo l'incipit e sentite voi quello di Feltrinelli 2 dell'Andrina Lavaggetto quando Gregor Samsa l'incipit all'inizio quando Gregor Samsa si svegliò una mattina da sogni inquieti si trovò trasformato nel suo letto in un immenso insetto era disteso sul dorso duro come una corazza e se sollevava un copo il capo scorgeva il proprio ventre convesso bruno diviso da indurimenti arcuati sulla cui sommità la coperta sul punto di scivolare del tutto si tratteneva ancora stento non riesce più il lenzolo a rimanere su perché c'è questo pancione d'insetto le numerose zampe miserevolmente sottili in confronto alle dimensioni del corpo gli tremolavano incerte dinanzi agli occhi c'aveva le zampette che tremolavano sentite la versione di Giorgio Zamp nel destarsi un mattino da sogni inquieti Gregorio Samsa si trovò trasformato nel suo letto in un enorme insetto giaceva sul dorso duro con una corazza e appena alzato il capo scorse un addome carenato scuro traversato da numerose nervature la coperta in equilibrio sul crinale minacciava di cadere da un momento all'altro mentre le numerose zampe pietosamente sottili rispetto alla sua mole gli ondeggiavano confusamente davanti agli occhi io leggerei questo non so voi cioè il pensiero di questo ragazzo che si sveglia con le zampette che tremano dalla paura pensate la forza dell'immaginazione di questo scrittore meraviglioso però ci fa ridere subito perché gli arriva una ciabattata quasi subito allora ridi subito cioè ci riesce come esattamente fanno i suoi protagonisti ci riesce a portare nel dramma e poi indimendamente nella farsa subito cioè Gregor Samsa si sveglia vede questa mostruosità che è diventato ma poi sorride per una cazzata meraviglioso e aspettate bevo un goccino bisogna dire una cosa che è molto importante qui come nell'incipit dell'altro ci sono leggerissime differenze stilistiche però però il senso ce lo dà ce lo dà la forza la forza di questo scrittore gigantesco parliamo di un altro libro senza la farsa capite sarebbe solo dramma ma dramma l'abbiamo cesato di tanti qui c'è la farsa assoluta insieme al dramma adesso parliamo di questo invece il processo il processo un librone enorme enorme chi era qualcuno aveva detto che franz kafka era lo scrittore che aveva rubato una consonante la k sì perché kafka k nel castello josef k nel processo cioè la k è la sua lettera ogni volta che noi sentiamo la k è la sua lettera sentiamo lui no cosa accade nel processo vi voglio leggere subito l'incipit l'inizio e poi vi spiego cosa succede allora premessa c'è un uomo josef k che sta dormendo in una fitta camera sta lavorando ha una bella posizione in banca una bella posizione è impiegato di alto livello in banca una mattina si sveglia in questa stanza dove lui affitta dove dorme chiede la colazione alla donna ma la colazione non arriva e arrivano due uomini due sconosciuti e gli dicono lei è in arresto e lui pensa subito a un quiproquo diceva io che cosa ho fatto però gli si accende il senso di colpa queste due persone lo arrestano ma non lo mettono in carcere lo lasciano diciamo agli arresti domiciliari insomma ha la libertà di muoversi però gli informano che lui è in stato d'arresto che non può uscire da quel paese e che verrà istruito un processo da qui a breve ma non gli dicono qual è il crimine che lui ha commesso non gli lo dicono lui attraversa varie vicende cerca di di capire che cos'è uno zio gli consiglia un avvocato e allora si prende l'avvocato ma non sa ancora che cosa ha commesso inizia il processo la burocrazia la società questo è il racconto di Kafka il succo la società che si impadornisce dell'individuo senza lasciargli possibilità questo si ritrova al centro del processo vicende assolute caos assoluto e finisce che viene accoltellato per sentenza cioè questo una mattina si sveglia viene arrestato senza sapere il motivo nel romanzo Kafka non ci racconterà mai quale crimine ha commesso o non ha commesso Joseph K non sappiamo se ha commesso un reato o meno e non sappiamo che strada facendo Joseph K perde la speranza immerso nella burocrazia dei tribunali della società e alla fine viene accoltellato però questa è la vicenda succedono tantissime cose sentite l'incipi qualcuno doveva avere calunniato Joseph K perché senza che avesse fatto niente di male una mattina fu arrestato la cuoca della signora Grubach sua affittacamere che ogni giorno verso le otto gli portava la colazione questa volta non venne non era mai accaduto K aspettò ancora un poco dal suo guanciale vide la vecchia dirimpettaia che l'osservava con una curiosità in lei del tutto inusuale cioè lui a letto dalla finestra vede la dirimpettaia che l'osserva in modo inusuale quindi contrariato e affamato nello stesso tempo suonò il campanello subito bussarono ed entrarono un uomo che non aveva mai visto in quella casa era snello tuttavia ben piantato indossavo un vestito nero aderente che al pari degli abiti da viaggio era provvisto di varie pieghe tasche fibbie bottoni e una cintura sicché appariva particolarmente pratico pur non essendo chiaro a cosa potesse servire chi è lei chiese K all'uomo e subito si mise a sedere diritto nel letto naturalmente tu ti vedi entrare un uomo nella tua stanza da letto ti siedi e dici chi è lei cosa fa qua dentro ma l'uomo sorvolò sulla domanda come se tollerare la sua apparizione fosse necessario e dal canto su disse soltanto ha suonato il campanello allora siamo non distanti dalla metamorfosi siamo in una situazione kafkiana questo aspetta la colazione suona il campanello entra un uomo poi ne arriva un altro lui dice ma chi siete lei ne arresto in arresto ma deve esserci un equivoco che cosa ho fatto io non si preoccupi lei ne arresto capite che siamo non lontanissimi dall'insetto e poi c'è tutta la vicenda kafkiana lungo tutto il processo e via dicendo cosa accade cos'è che sta in kafka come una camicia su misura il senso di colpa quando lui descrive questi due uomini che entrano nella sua stanza è come se raccontasse un senso di colpa preesistente cioè non è che abbiamo una colpa reale c'è una colpa preesistente qual è? avete presente quando la maestra a scuola elementare o la professoressa ad un tratto nominava il vostro nome all'improvviso tipo sommi magari io sto guardando il banco leggendo le mie cose sommi vi viene il senso di colpa cosa ho fatto? perché mi chiamavo in questo tono? magari non avete fatto niente magari doveva dirmi semplicemente sommi mi fai un favore? mi porti i gessetti che sono della bidella? però in quel richiamo improvviso con un certo tono di voce sommi tu senti e dici cosa ho fatto? dove sono i foglietti che stavo nascondendo? me li hai visti? c'è un senso di colpa oppure non so vostro padre o vostra madre che improvvisamente dall'altra parte del corridoio vi dico Luca! perché sto tono? cosa ho fatto? il senso di colpa preesistente esiste in tutti noi e lo abbiamo sempre quando qualcuno in una situazione improvvisa ci chiama noi sentiamo il senso di colpa Kafka sentiva anche il senso di vergogna la vergogna di non essere forte come il padre la vergogna di non essere un Kafka la vergogna di occuparsi di letteratura che lui amava come unico destino della sua vita ma che i genitori non tolleravano assolutamente e allora la colpa che c'è a prescindere ci dice molto su quanto l'assurdo il grottesco le accuse di delitti l'essere diventato insetto si mescolino in questa narrazione stupefacente senza colpo ferire quindi sia Gregor Samsa sia Joseph K vivono di vergogna di senso di colpa l'insetto ha il senso di colpa per essere in ritardo al lavoro per cosa diranno i vicini di casa rispetto ai genitori Joseph K ha il senso di colpa verso il mondo era un un professionista affermato cosa diranno adesso e lo zio che gli procura l'avvocato glielo rimarca gliela rimarca questa cosa e lui la scrive come se lo zio fosse il padre diciamo in fondo eri un ragazzo così non si sa cosa ha combinato non si sa quale reato ha commesso nessuno lo sa eppure eppure lo zio gli dice ma eri un così bravo ragazzo ma perché perché pensa alla nostra famiglia pensa che onta per la nostra famiglia e lo colpevolizza senza sapere cosa ha commesso non solo sei innocente o no o è colpevole ma non sa neanche cosa ha commesso e già lo colpevolizza siamo sulla bocca di tutti cosa diranno tutti gli altri eri un così bravo ragazzo avevi raggiunto una così bella posizione ti ho anche procurato l'avvocato e niente nel senso di colpo all'obbita c'è una scena bellissima nel processo nella quale i due che lo vanno a prendere all'inizio gli dicono che è in arresto e qui subentra la farsa ho dimenticato di dirvi che quando arrivano loro lo sorvegliano ma arriva anche la colazione quella che lui aveva chiesto solo che gliela mangiano loro e nella narrazione vi viene subito da ridere quando Kafka legge questo passaggio dei suoi amici ridono tutti perché questo è stato messo in arresto senza sapere perché a due strane in camera arriva la colazione e quelli si siedono e gliela mangiano più avanti più avanti nel romanzo che è fatto solo di dramma cosa accade accade che ad un tratto Joseph K si rende conto che c'è un bastonatore capitolo dei bastonatori che stanno bastonando qualcuno sta bastonando i due che lo hanno arrestato e lui arriva e dice ma perché bastonate questi due perché hanno commesso il reato di mangiarle la colazione capite questi che lo hanno arrestato di mangiare la colazione vengono bastonati e lui cosa prova un senso di colpa tant'è che cerca di discolparli dice ma no ma in fondo era una colazione non è detto che fosse mia lui ha il senso di colpa perché loro stanno beccando le legnate Kafka è la vergogna ed è il senso di colpa dovete sapere che una cosa stupenda e anche a volte può sembrare anche un po' paradossale è che l'autore preferito di Kafka era Flaubert dovete sapere che Flaubert abbiamo detto prima è il realismo ottocentesco ti racconto la realtà Kafka è il realismo magico la surrealtà cosa ci azzeccano come direbbe di Pietro uno con l'altro l'educazione sentimentale di Flaubert è il libro preferito da Kafka l'educazione sentimentale prospetta un pessimismo cosmico tutto va male tutto è disgrazie perché è attratto da Flaubert cosa è che lo accomuna Flaubert una cosa molto semplice che entrambi reputavano la letteratura più importante Flaubert ha problemi con le donne perché si occupa solo di letteratura Kafka uguale ed entrambi erano ossessionati dalla giustezza e dalla rettitudine della frase della parola le cose dovevano scritte perfettamente e vengono accomunati da questo la giusta frase diventa il dogma sia di Kafka e sia di Flaubert e sono due scrittori diversissimi uno è un realista e uno un surrealista passiamo il termine surrealista uno è realista l'altro è kafkiano aggettivo di se stesso sono entrambi però totalmente devoti alla letteratura e questo li accomuna e Kafka può essere definito con tutta probabilità il poeta dell'impoetico cioè lui rende grazie alla sua scrittura meravigliosa rende tutto stupendo e racconta di scarafaggi processi burocrazia burocrati stato oppressivo verso l'individuo situazioni drammatiche il paesaggio sempre triste racconta quello che Platone chiedeva a Socrate Platone chiedeva a Socrate maestro ma si può descrivere c'è un'idea per i peli per la sporcizia per le cose immonde e Socrate rispose no non c'è un'idea per quelle cose tutto corrisponde a un'idea ogni cosa del reale corrisponde a un'idea diceva Socrate ma non quelle non i peli non la sporcizia non l'immondo Kafka ci racconta l'immondo ci racconta la sporcizia dell'umanità ci racconta il residuo che abbiamo dentro e ce lo racconta attraverso una poetica fatta di commedie e dramma che si avvicinano non di pagina in pagina ma di riga in riga è uno scrittore straordinario per chi non ha letto La metamorfosi lo legga domattina tanto è brevissimo per chi non ha letto Il processo lo legga dopo domani mattina perché è un romanzo meraviglioso Vabbè io potrei parlarvi per ore e ore di Kafka però ormai sono 50 minuti diciamo che Kalos kai agatos dice Fabio sì secondo l'idea nell'epoca di Socrate la kalokagatia come dice Fabio era che la bellezza esteriore corrispondesse alla bellezza interiore il primo a disattenderla è Socrate che era bruttissimo era un mostro Socrate era il più brutto della città ma era il più bello dentro il più intelligente e quindi contraddice la kalokagatia come ha detto giustamente Fabio vabbè ragazzi spero di avervi detto delle cose curiose interessanti la mia visione la mia la visione di tanti insomma su Franz Kafka che davvero ci ci fa questo regalo cioè il suo racconto è sempre come dire altro rispetto a quello che racconta cioè sfugge sfugge come una saponetta come ho detto più volte sono belli quelli che fuggono quelli che non riesce a definire quelli che non riesce a incasellare lui era un impiegato ma si è dedicato alla letteratura da amateur non da professionista infatti non venne mai pubblicato quanto cinema è nato su questa grammatica ossia dove la farsa si sposa con la commedia io penso a quanti registi mi viene in mente Kentin Tarantino Kentin Tarantino è un che io credo sia il più grande genio degli ultimi 30 anni dove continuamente farsa e commedia un frappè bevuto da John Travolta si descrivendo il frappè che alla frago è più buono che alla ciliegia e poi c'è una sparatoria dove muoiono dieci uomini quanto cinema quanta letteratura contemporanea c'è dietro a questo meraviglioso scrittore che nella sua figura esile nella sua tendenza melanconica ad affrontare la vita e nel suo insuccesso in vita ha fatto la rivoluzione la rivoluzione insieme a Marcel Proust e a James Joyce la rivoluzione la rivoluzione Grazie.